Marco Mele, buongiorno, questa mattina il Salento si sveglia a maglia o perlomeno si dà appuntamento a maglia perché parte l'XCIO Salento Race ma è anche tappa dell'XCIO Puglia Buongiorno a tutti, sono contentissimo di aprire l'evento dell'XC Race Salento con una tappa a Montevergine un circuito già conosciuto dai biker della Puglia il circuito è altamente tecnico ed è stato studiato e progettato da Luciano De Donno, Pasquale Cardinale e Danilo Zollino mettendo in evidenza tutto quello che di tecnico c'è sul tracciato per permettere soprattutto agli esordienti allievi ma anche agli amatori di spizziarsi nella tecnica della guida della bicicletta e con orgoglio posso dire che è uno dei circuiti più tecnici e più belli della Puglia il nostro obiettivo è quello dell'XCIO Salento e del Puglia Challenge è quello di creare appunto una scuola per i ragazzi e per i professionisti del futuro una scuola appunto dove poter mettere in pratica le doti di biker, di tecnica della bicicletta Pasquale Cardinale in tutti i casi è importante provare a conoscere un percorso quanto meno provarlo perché, ripeto, oggi siamo in un percorso abbastanza impegnativo dove sono state fatte delle aggiunte non indifferenti che sono i salti abbiamo reso il percorso ancora un po' più tecnico, abbiamo aggiunto dei piccoli drop, dei passaggi tecnici abbiamo comunque previsto una linea più semplice per chi non è espertissimo e raccomandiamo soprattutto questo affinché possa essere una giornata in cui tutti ci divertiamo bella, tranquilla tranquilla, dopo ci andiamo a bere una birra e un bel piatto di pasta consigliamo a tutti di non avventurarsi sì, è la terza tappa, questa di Palmariggi è una location, una società che ci segue da un bel po' di anni poi è anche la prima tappa di questo neonato circuito interprovinciale Brindisino e Leccese XIO Salento Reis che ha sette tappe e quindi oggi abbiamo uno dei percorsi più belli insieme ai tanti che ne abbiamo in Fuglia che per fortuna stanno uscendo fuori negli ultimi anni e ovviamente tanti ci sono già stati come Cerano, come Grotte di Santa Croce di Nerdental Cup, la gara di La Terza, la gara di oggi poi c'è il torsito, ci sono bei percorsi dobbiamo dire che negli ultimi anni c'è stato quel periodo di Covid che è un po' bloccato e grazie alla mountain bike si è fatto qualcosa però tanti adesso stanno andando sulla mountain bike e tanti anche sulla strada quindi sta rinascendo il ciclismo, quello vero merito ai presidenti provinciali, ai delegati ma un saluto lo facciamo anche al nostro presidente Giuseppe Calabrese Giuseppe Calabrese, Giuseppe Calabrese i delegati, i presidenti provinciali e tutte le strutture tecniche insomma le strutture tecniche che sono molto operative e le società che veramente ci credono ci credono ed è importante questo possa! possa! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.